Buongiorno dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Marco Gargini. In FIPILI per lavori tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna si segnalano 3 km di coda verso Firenze e rallentamenti verso Livorno. In A1 verso Roma per incidente al km 266 in Galleria, un km di coda tra il bivio con la variante di Valico Bacchiraia e Calenzano. Sempre in A1 per lavori stanotte in orario 22.6 sarà chiuso lo svincolo di Valdarno in entrata in direzione Roma. In A11 di Ramazione Lucca via Reggio, entrata chiusa a Lucca Ovest in direzione Lucca fino alle 19. A Firenze per l'emergenza Covid è stata sospesa la ZTL estiva notturna che sarebbe dovuta scattare da giovedì 1 aprile. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!